Buongiorno Armando, tutte le persone che stanno nei supermercati e nei negozi non ricevono informazioni su quello che fanno con la pistola laser misura febbre, non si sente niente come quando si va dal medico per farci fare i raggi X, non si sentono però si accumulano e allora mi chiedo quante volte in una settimana si devono subire perché vanno a finire esattamente dentro alla testa, ci stanno uccidendo, oggi fanno fuori mille neuroni, domani altri mille, il giorno successivo altri mille e tutto questo alla fine arriva a creare un numero incredibile di alterazioni al sistema nervoso centrale, quello che controlla tutti i nostri automatismi e non sapremo mai che è stato a causa di questo termometro misura febbre, alle autorità sanitarie non conviene affatto che si sappia tutto questo perché sono tutti quanti complici col potere occulto affinché vendano più medicinali, ma abbiamo bisogno di usare la coscienza, è necessario passare queste informazioni affinché molte persone possano saperlo, dobbiamo attivarci e dire ai misuratori della temperatura che non ci puntino la pistola nella testa, ma sul braccio come dovrebbe essere, perché la temperatura si può misurare anche nel pollice del piede, non deve essere per forza nella testa. Passo questa informazione a voce perché consapevole e sono stato informato dal dottor José Mena, molto servizievole. Un abbraccio Armando. Grazie. Ciao.